La deputazione europea nazionale e regionale della provincia di Avellino, senza distinzioni di schieramento, il vicepresidente della regione, il presidente della provincia, i sindaci, le organizzazioni sindacali, sollecitano con forza il governo e la Fiat a mettere in essere ogni azione affinché lo stabilimento Irisbus non venga chiuso. Il mondo politico irpino approva così un documento unitario. Si chiede che nel tavolo del 3 agosto presso il Ministero dello Sviluppo Economico la Fiat ritiri le procedure poste in essere, mentre al governo nazionale si chiede il finanziamento del piano trasporti di concerto con la conferenza di Stato-Regioni, partendo dalla rimodulazione dei fondi previsti nella legge finanziaria con l'obiettivo del rifinanziamento del capitolo relativo all'ammodernamento del parco autobus. Nella sala Grasso di Palazzo Caracciolo, esponenti delle amministrazioni locali, provinciali, regionali, deputati e anche l'europarlamentare Ciriaco De Mita hanno sviscerato la vertenza Irisbus. Su tutti le parole forti di De Mita Senior, che ha invitato gli operai a perseverare nella battaglia e i sindacati a trattare, essendo le figure deputati a tale ruolo. L'europarlamentare difende la politica dell'industrializzazione in Irpinia, l'unica soluzione possibile dopo il terremoto. Ed ancora per De Mita bisogna finire il tempo delle polemiche. La forza della politica e la condizione delle cose sarebbe grave, conclude, se un politico non dia speranza alla gente. In quel caso non vedo altre soluzioni. Le forze operaie presenti al Summit hanno evidenziato che al ventitresimo giorno di protesta aumenta la stanchezza e la disperazione. Ma se finora hanno portato avanti una battaglia pacifica, non assicurano di perseguire tale linea. Insomma, diventa sempre più chiaro che il clima è diventato rovente. Si è di fronte ad un'emergenza che sta coinvolgendo l'intero territorio. I politici intanto minacciano dimissioni. C'è chi, come Pugliese, invita il ministro romano a presentarsi al tavolo del 3 agosto, altrimenti potrebbe anche porre fine al suo ruolo. E chi, come il consigliere regionale Zecchino, annuncia le sue di dimissioni se Caldoro sarà assente sempre in quella data. L'avvertenza Irisbus sta assumendo i connotati di una diatriba politica. Consiglio ai politici irpini di tacere perché nelle disgrazie si assumono responsabilità e non si fa né propaganda né passerella, detto il ministro Rotondi, invocato sia ieri durante la manifestazione pubblica davanti allo stabilimento, sia nelle varie note stampa. E' facile comprendere che la stoccata del ministro è indirizzata ai deputati irpini, Marco Pugliese, Arturo Iannaccone, Francesco Pionati e Franco De Luca. Il ministro per l'attuazione del programma non ha poi nascosto la sua assoluta preoccupazione per l'evoluzione di una vicenda nel quale tutto il governo sta svolgendo il proprio ruolo con il massimo impegno. Rotondi, dunque, difende Palazzo Chigi e rimarca come le colpe siano della Fiat. In una nota, infatti, il ministro afferma che il lingotto ha fatto scelte che non corrispondono agli impegni a suo tempo assunti col governo e le parti sociali. Per le tute blu, comunque, è confortante la notizia che lo stesso Giorgio Napolitano è a loro fianco. Il presidente della Repubblica ha inviato in Irpinia il suo consigliere Umberto Ragneri, che sarà giovedì presso lo stabilimento.